I dati parlano chiaro, si è chiusa positivamente l'attività svolta dalle fiamme gialle di Treviso e dai funzionali dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli all'aeroporto Canova. Nel corso del 2017 il flusso illecito di denaro complessivamente intercettato è stato di circa 2 milioni di euro. Per quanto riguarda il primo semestre del 2018, sono state accertate 47 violazioni in ambito valutario per un valore complessivo di 679 mila euro, che hanno portato alla contestazione di sanzioni estinte mediante il versamento nelle casse dell'erario di 14 mila euro. In questi mesi sono state individuate le rotte seguite e scoperte i meccanismi utilizzati per il traffico illegale di denaro contante, talora ben occultato nelle intelleghiature dei bagaglie, in appositi doppi fondi, in cartuccere indossate sotto gli indumenti, nelle tasche interne dei borselli. L'attività investigativa sui flussi di capitali non dichiarate alla frontiera è stata quindi intensificata ed i risultati non sono mancati. Ma i controlli hanno riguardato anche la lotta alla contraffazione e al traffico di sostanze stupefacenti. Grazie all'ausilio di due unità cinofile della Guardia di Finanza, è stato scoperto e sequestrato un considerevole quantitativo di hashish e marijuana detenuto per uso personale, segnalate le autorità competenti 19 passeggeri di diversa nazionalità. Grazie a tutti.